Musica Leggolissimo si chiama trigo ben scuola scuola di armi no maledetto non avevo armi un coglionito un coglionito prima c'era pieno di gente qui a tutta un coglionito 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 si è morto mi dà 6 successivi altrimenti no non ho più non ho più ma cazzo mi insiste ma cazzo mi insiste ma cazzo ma cazzo ma cazzo ma cazzo ma cazzo cazzo ma cazzo non cazzo non cazzo ma cazzo ma cazzo non cazzo ma cazzo morto è morto è morto ah che bello un panellino è vero ma lì è morto è morto ma cazzo è morto è morto è morto è morto è morto è morto ma è morto è morto è morto ma è morto ma l'arbitro l'arbitro si è preso tanti di quei insulti perché perché ma una bacio ma è preso non mi urla a vedere cos'è quella cosa morto l'arbitro cazzo cazzo hai capito cazzo ma chiamavi loro come facciamo a chiamanli che ieri non hanno neanche toccata il loro che abbiamo unilogin go vai 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 oh me la si ha fatto grande penzo io pago sempre le scommesse ci abbiamo aspettato fino all'ultimo e vabbè almeno uno non avrà di più scordato dove sono felice ho preso in testa cento metri precisi ragazzi prima alessi può confermare si è un po' qua che c'è gente ragazzi prima alessi ho pensato che c'è una rene di gate rider che c'è gente da me ah è vero confermo abbiamo ucciso una rene di gate rider ahia no non ce ne so dai un'andata oh mio dio ragazzi non è vero vai 10 bombe merda fuck that oh no vai c'è lo mitico ragazzi lo mitico oh ho messo da chi ti è c'è 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 attraverso nonno cosa deve prenderla e non ci andare tanto non mi potete riavviare vado a prendere lui vado a prendere a lei non te la fai manca lui dov'è ahia mi sa che non te lo lascia dov'è no 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 ma non ci prendo ma non ci prendo ma non ci prendo chi l'ha preso cosi era la morte inizio siete maledetti oh no oh no